Ciao piscuini, adesso vediamo se stasera c'è il nostro amico Rospo. Allora, non ho ancora guardato se qualcuno ha risposto. No, ancora presto, perché l'altra volta erano le undici e mezza, sono le dieci. Eccolo qua! Ma ci sono! Ciao! Allora, io l'avrei chiamato Jabba. Ciao Jabba! Vediamo se riesco a appoggiare il telefono, perché oggi per fare questo lavoro qua sono da sola. E sto spaventato, patato! Ciao! Ciao amore! Ciao Jabba! Jabba! Ciao! Ciao Jabba! Vedete che ti ho ingrattato un pochettino. Se lo bagno un pochettino qua sotto. Ecco qua! Eh, stai meglio! C'è, Jabba! Eh, questi giorni non ha piovuto, doveva piovere, non ha piovuto. Vero, amore? Eh, toh! Ti bagno un po' così stai al fresco, eh! Mettiamo l'acqua anche lì dentro. Come vedete, c'è uno, due, tre angoli d'acqua. Ciao Pischquini! Ciao Pischiquini! Grazie.